Lo scorso weekend la pubblicazione delle graduatorie per i centri estivi ha fatto sobbalzare dalla sedia un centinaio di famiglie pesaresi. Tante quelle che si sono viste escluse o per meglio dire incastrate in liste d'attesa con poche speranze per quel che riguarda l'accesso al servizio nido ed infanzia prolungato sul mese di luglio. Il comune di Pesaro da una parte ha evidenziato come si siano investiti 100.000 euro sull'apertura estiva di nidi ed asili ma lo stanziamento pare ben lontano da coprire la reale necessità delle famiglie. A tal proposito da oggi è partita una raccolta firme per amplificare il riflettore del disagio verso l'amministrazione comunale. Promotrice della petizione Veronica Gasparri presidente del nido d'infanzia girotondo di Vismara. La raccolta firme nasce perché appunto ci sono stati molti bambini esclusi quasi siamo arrivati al 50 per cento e non parlo personalmente perché appunto mio figlio è rientrato nelle graduatorie però mi faccio promotrice per tutte le famiglie che raccolgono questo disagio estivo mamme e papà lavoratori che si trovano a rimanere scoperti parzialmente o appunto per l'intera giornata giornata lavorativa. quindi la raccolta firme nasce come richiesta non tanto come come protesta come richiesta al comune per un impegno maggiore una non so se per quest'anno un'apertura di una nuova struttura ma se non fosse così un qualche servizio che possa andare a coprire il disagio che è stato creato con questa mancanza di apertura di centri estivi. Il comune dunque si trova impegnato in questi giorni a cercare una scappatoia da una situazione che ha visto da un lato aumentare la richiesta delle famiglie e al contrario registrare una contrazione delle risorse spendibili. Probabilmente anno scorso con il covid e con la situazione che ne ha comportato le richieste sono state nettamente inferiori quest'anno ovviamente la situazione è un po' più rilassata se così si può dire ovviamente un genitore ne approfitta un servizio comunale che comunque abbiamo diritto che sia di averlo e che di usufruirne. E da oggi la raccolta firme verrà ramificata in ogni nido comunale. Io come presidente ho diffuso appunto un modulo tra tutti i presidenti degli altri asili nido e basta semplicemente compilarlo con nome e cognome il numero di documento e una firma per adesione.